ciao mister massimo canta di carta canta dicevi qualche giorno fa che il livello delle vostre concorrenti si è alzato quest'anno e lo dimostra la partita con il lecce questa con il bologna ecco quali sono state le difficoltà maggiore nell'affrontare queste due squadre no è quello che hai detto tu è quello che sostengo io da inizio anno io non dico cose perché sono frasi fatte penso che è un campionato molto difficile quest'anno è una guerra in tutte le partite è una battaglia ci affrontano in maniera diversa e io ho fatto un discorso a fine a fine partita ve lo posso dire in maniera tranquilla ho fatto i complimenti ai ragazzi perché hanno dato tutto veramente sono usciti stremati da questa partita la partita era molto borderline la potevamo sia vincere che perdere però a mio avviso serve qualcosina in più bisogna alzare ancora un po' l'asticella da parte di tutti ho chiesto maggiore attenzione maggiore proprio anche il venire al campo un po' prima il fatto di insomma di alzare tutti un po' il livello a partire da me che lavorerò ancora di più quest'anno c'è bisogno ancora di più di lavorare perché queste partite qua magari la passata stagione le vincevamo quest'anno invece sono dure da da vincerle quindi il segnale quello lo sappiamo siamo consapevoli però insomma ho fatto i complimenti alla squadra